Musica Super ciao, buonasera, buon pomeriggio Allora, iniziamo con la clip Sì, vabbè Fa me abbassare il volume Il volume Aiuto Basta Salve Troppo vicina la camera qua Com'è, la camera in camera Allora, vediamo un attimo perché Ancora non è partita Vanno detto alle 5 e mezza Invece, no, non è vero Boh, si aspetta, ma che bisogna fare Storia fatta, tutta a posto Sì, buon venerdì 17, ecco Quindi probabilmente non la fanno Non lo fanno più l'evento Allora, approfittiamo per regolare un attimo la camerina Qui, lo schermino Perché Dai, nooo Non mi riesco No, è meglio Allora ragazzi Oggi C'ho anche lo yogurtino Quindi Aspettiamo l'evento Mangiando lo yogurtino Al caffè Guarda, io, no La marca è censurata O Al caffè Attento agli spoiler Ah, The Last of Us 2 Vabbè, leviamolo Leviamolo Leviamo la cosina Ok Io provo anche a refresciare la pagina Ma No, non è ancora partito Niente Aspettiamo Parabarabappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappapp Erano 40 Vuol dire che non mi interessa la verità perduta Ah che faccio lo smetto non lo faccio più Ma sto sciuffo secondo voi è regolare Perché è veramente troppo a punta Ci posso accecare la gente Io non lo so Io me lo metto Sì quando mi metto un po' la pelle Ma ci sta Sembra un becco Vabbè ci acceco la gente Allora dunque Sì aspetta Fammi vedere C'è stato un abbonamento No non è vero C'è stato Ah sì sì Kylo 7 si è abbonato ai Barlume di Stelle Si sono abbonati grazie A tutti e due grande Kylo Che è un mito sappiamo è il benefattore Numero 1 del canale Ci sono stati 3 diamo no 2 2 Andra dice Allora io mi mangio Lo yogurtino al caffè Ragazzi lo yogurt al caffè È la cosa più buona del mondo Almeno per me Sta musica mi ha rotto È troppo alta la musica È troppo alta la musica È troppo alta la musica di Crash Dai Oh Yogurti Non mi piace fare Non mi piace fare vedere che lecco questa cosa Aspetta Ecco E c'è Un limite a tutto Avevo già il tasto clip esatto Lo sapevo Lo sapevo Ma io no Io no Io sono una persona Modino Organizzate più il sabato con radice Che vuol dire Tanto quando siamo visti i radici era domenica Non era sabato Tarattaratt Ma oggi è venerdì Sì oggi è venerdì 17 Allora Guarda Guarda il colore di merdina Lo yogurt al caffè È buonissimo È buonissimo L'evento viene spostato a domani Cos È partito È partito Partito È partito Parfetta Vai Perfetto Fammi aggiustar No Voglio il pixel perfect Ok Siamo qui Il pixel perfect Mancavano 14 minuti Quindi è live Non è una Una diretta Al solito 60 fps Anche Eh la live va a 30 Però eh L'ho mai messa a 30 I glutine Al gusto Wump Io non ho capito Che fanno vedere Fanno vedere Il dual sense E il controllo Della ps5 Però Dal vivo Cioè Non è che lo fanno vedere Come l'altra volta Che era una foto Lo fanno vedere dal vivo Che Dicono Danno le prime impressioni Sto mangiando Lo stesso identico Yogurt E la stessa marca Incredibile Magari anche Con lo stesso cucchiaino C'abbiamo anche Le campane Fotine Rarrivo Cosa Sly Cooper Hai mai avuto l'idea Di portarlo L'ho mai giocato Sly Cooper Cioè no Giocai la demo Anni fa Ma non mi ha mai Attirato troppo Da Ti sei mai approcciato A manga O anime Sì Oddio Manga No No In genere Ma non lo so Io in realtà Ben che io Mi piaccia molto La cultura giapponesa Eppure a me Non Sono abbastanza ignorante In questo settore Quindi Già l'anime Di suo Sempre visti pochi Anche quando ero piccino Però Boh Facciamo stop Può dire Piro Il Ghillo dov'è Eh il Ghillo Forse c'è la cicala Fammi senti No Perché è andato via il sole oggi Ancora Crash Mobile Non ha una data eh Ma secondo me Non ce l'hanno E nemmeno loro Fatti consigliare anime Da Dario Moccia In base a tu gusti Ma il problema È che io A me proprio Non mi garbano gli anime Non mi piace Come sono fatti C'è un mio amico Prova a farmi vedere L'attacco ai giganti Non ce la fa Mi viene Mi viene proprio Cringe a me A vedere l'anime È una cosa mia Non ce la fa Non ci riesco A avere tutti sti versi Non ce la fa C'è un modo di narrare Di raccontare Che non mi piace Non mi piace a me Non è che dico Proprio non ce la fa È una cosa mia proprio Io gli anime Non ce la fa Dragon Ball Nemmeno Dragon Ball Io da piccino Ci fu un periodo Che riuscì a seguirlo Perché tutti i miei amici Guardavano Dragon Ball E quindi Vabbè Proviamo a guardare Dragon Ball Ci fu un periodo Che riuscì a guardarlo Poi però Smisi Perché non ce la facevo Nemmeno lì A parte che è una lentezza Esasperante Io non ce la faccio Con gli anime È una cosa mia Quindi lo stesso Anche i manga Non ho mai Cioè Non avendo avuto Interesse per gli anime Non ho mai avuto Interesse per i manga Poi è chiaro Magari mi dai One Piece E lo leggo tutto E mi ci innamoro Ho capito Però non Non è mai Non ce la fa Non ce la fa Mentre Riesco a guardare I film di Di coso Dello studio Ghibli Però ne ho visti Pochissimi Ne avrò visti Tre Due o tre Però già quelli Riesco a vederli Poi è chiaro Io di serie Giapponesi Non ho visti Vabbè Da piccino Vedevo Pokemon Ovviamente Però anche lì Ho smesso Dopo un certo Smisi Corubino e Zaffero Vedi le prime tre serie La prima bellissima Seconda bella Terza non so Poi smisi Che Che basta Doraemon Eh Doraemon L'arto giorno Lo vedi di mattina E mi ci ero messo A guardare un episodio Doraemon E Doraemon Mi garba già di più Però è roba molto Non lo so Non ti piace Doraemon Non mi piace Doraemon Ma io non riesco A guardare neanche Lupin Ragazzi Benché a me piaccia Lupin Io ce l'ho sta cosa assurda A me piace Lupin Cioè mi piace Proprio Eppure Ne ho visti poi De Pisa Ragazzi Non parliamo di queste cose Sennò veramente Poi capite male Boris Sì l'ho visto L'ho visto L'ho visto anche Il film È una cosa mia Io ho gli anime Così Boh Non lo so Ma lo so che sbaglio Cioè Sia chiaro Lo so che Che è un errore mio Cioè lo so che non va bene Sto cosa Però Non ho mai avuto Chi mi ha Iniziato agli anime E mi faccia apprezzare gli anime Per esempio c'è Vito Che dice che dovrei vedere Il mistero Il mistero della pietra azzurra E lo dovrei vedere Prima un po' Lo vedrò Ma un po' Lo so Diciamo che io da piccino I cartoni Guardavo I cartoni Disney E son cresciuto Con l'imprinting Dei cartoni Disney Per me un cartone Deve essere animato bene Deve essere Avere Quello Un certo stile Lì Con l'animazione Fatta bene Invece Vedere Le osse giapponesi Quando ero piccino Mi sembrava una roba Proprio fatta male Quindi Non ce la facevo Ma lo so che è sbagliato Leggi vedi Death Note Ah poi guardavo Conan Conan mi garbava Conan È uno dei Perché lo facevano A pranzo Quando suonavo da scuola Conan Lo guardavo veramente Lo volevo vedere Proprio Conan Super Detective Con gli occhiali Tocque Panella Si è abbonato per sei mesi Oggi Presenti Speriamo che Sto dual sense Sia comodo Soprattutto Un bacione Grazie mille Sei mesi Miglior classico Disney L'ispettore gadget Oddio Sì Forse lo vedevo Ma io li vedevo I cartoni Guardavo le cartarughe ninja Guardavo Batman Però io Quei cartoni lì Li percepivo Proprio come Roba brutta Quando ero piccino Non che Dicessi Cioè Mentalmente Io quei cartoni lì Li vedevo Con una consapevolezza Che stavo guardando Qualcosa che Stavo facendo Solo perché Un sapevo sa fa Mentre io Aspettavo tantissimo La domenica Che ho il sabato Per vedere La roba Disney Cartoni di Paperino Tom e Jerry Quando ero piccino Io impazzivo Un Tom e Jerry Gli Animaniacs La roba della Disney Disney Club La serie di Timone Pumba DuckTales Io volevo Quella roba lì Mentre le anime Non ce la facevo Mi dava noia E quindi Sono cresciuto Con quell'idea lì Che Chiaramente Sbagliato Perché poi Di sicuro Gli anime belli Ci sono Però Appunto Per esempio Attacco di Giganti Sicuramente bellissime Oppure Non ce la fa Perché vedi Proprio quegli stereotipi Della Dell'animazione giapponesa Che a me È un muro Non ce la fa Tom e Jerry Il best cartone A mani pass Anna Monta Anna e Barbera Leone il cane Fifone Credo Avevi visto Qualcosa Sì Qualche episodio Ma non lo seguo Poi vabbè Quel tempo là C'era Quel tempo là Guardavo qualcosa Di Spongebob Johnny Bravo Dexter Il laboratorio di Dexter Mi piaceva Però Io È Tanto Tanto Che non guardo La televisione Per i cartoni E Anche perché Non ho Netflix Quindi Sì Vedi E avveri Anche lì Disney Plus Lo sono fatto subito Invece Netflix No Lo guardo a volte Da mie amici Gente Da Vito Lo vedevo No In realtà Lo vedo Solo da Vito Netflix No No Dagli amici Mucca e Pollo Sì Poi c'era anche Dead and Daddy Insomma roba che andava su Italia 1 A me piaceva Ecco Un anime Che mi piaceva tanto E questo Mi comprometto Mi sa Bayblade Non mi piaceva Io guardavo un sacco Doremi Sì Io non guardavo Drago Ma guardavo Doremi Eh lo so Mi guardavo Ma che magia E devi fare Anche da mamma Madonna Non lo so Mi piaceva Doremi Doremi Un must Per le bimbe Durante il babysitting E allora Mi guardava Doremi Ma perché erano carine Le storie Poi smesse Ovviamente Poi c'era Io allora Quando doveva Iniziare Il pokemon Prima dei pokemon C'era rossana E io Quando arrivavo Magari prima E accendeva la televisione Rossana Non era ancora finita A me mi venivano Due coglioni O si Con questa rossana Non la potevo patì Mi dava una noia A stare rossana Madonna Appena partiva La sigla finale Ma andavo di fuori Che dicevo Ah Ma inizia pokemon Finalmente E' finita sta merda Poi c'è Antaro Antaro Anche quello Penso Lo vedessi Antaro Quando era Prima dei pokemon Antaro Boh Madonna Madonna Io ho provato A guardarlo Ma l'ho finito Quindi Tasmania Si Si Però è anche vero Che sono tutti i cartoni Che andavano bene A quell'età lì Io Vedi anche DuckTales Nuovo Madonna E lo guardo Ma Lo stavo guardando Ma poi L'ho stoppato lì Non lo so Perché Segno che Probabilmente Non mi ha preso Il tutto Power Ranger Si Power Ranger Mi guardavo Ero piccinissimo Quando guardavo I Power Ranger Ero veramente Piccino E non è che Mi piacessero Però Boh C'erano Sti mostri Sti cose I Robinson Vabbè Robinson Si Tom and Jerry Ancora attuale Si Tom and Jerry Mi piaceva Veramente A me piaceva Un sacco Anche Fleaston I Fleaston Quando lo facevano Gabato Un po' Meno Anzi Jetson Si riguardavo Perché erano simili A Fleaston Però Fleaston Era naga Anzi E' tantissimo Che non vedo L'episodio Dei Fleaston Non ho idea Di come Di che effetto Mi potrebbero fare E il film Dei Fleaston Da piccino Lo adoravo Il primo Tiririririri I sims Vabbè Li guardo Tutti i giorni Quando li fanno A pranzo E tutti i giorni Si guardano Quindi Si guarda proprio Con la mia famiglia Si mette lì Si pranza E si accende Si guardano i sims E ora in questi giorni Stanno facendo Una serie vecchissima Scooby Doo Scooby Doo Lo guardicchiavo Quando Andavo da mio amico Da piccino E Genere Ci andava un'ora Che C'era Scooby Doo E si guardava Sto Scooby Doo Si si mangia alle due Si Però a me Sto Scooby Doo Mi ha sempre fatto Cavo Cioè si Sempre Mi ha sempre Sembrato una roba Veramente Di un cringe Allucinante Mi ha sempre Mi ha sempre Mi ha sempre Ha acceso il vape Si almeno Le zanzare Esplodono La vita Secondo Jim Poi guardavo Malcom Però Qui per quanto riguarda Le serie Guardare in pigiama Si l'ho visto Qualcosa Però stiamo parlando Di epoche Le street shark C'avevo anche La statuina Di ai Pupazzone Che gli muoveva la bocca O due Uno o due Quattro pinne all'orizzonte Le street shark Ecco Gumball Non l'ho mai visto Di Cantuti che bello Non l'ho mai visto L'albero azzurro Si L'albero azzurro Io Ci sono cresciuto Con l'albero azzurro Porca miseria Ma penso Tutti quelli Che sono cresciuti Negli anni 90 Sono cresciuti Con l'albero azzurro L'albero azzurro Ha formato Una generazione Intera Di La melevisione Invece no Io anche In quella lì Non mi riuscivo a vederla Anche perché Era già un po' più grande E non lo so Cringiamo male Con la melevisione Aspettiamo anche un minuto Nonostante Un esempio Per ora Danilo Bertazzi Mi piace tanto Vederlo su youtube Cioè Mi sento Comunque Affezionato a lui Anche se Non mi piaceva La melevisione Bonolis con Bim Bum Bam Si oddio Bonolis con Bim Bum Bam Era anni 80 Cioè io No Non lo so Se già nei primi 90 C'era sempre Bonolis Che faceva Bim Bum Bam Ma non credo Perché so Che Bim Bum Bam Lo faceva 87 Quegli anni di Il trauma Della melevisione Il giorno dell'11 settembre No Io il giorno dell'11 settembre Stavo giocando a croc Me lo ricorderò Per sempre Al computer Stavo giocando a croc Croc 1 O 2 No 1 forse 2 30 secondi Infatti ho tolto la musica Stavo guardando la melevisione L'11 settembre Ma cosa fecero Levarono la melevisione E misero il TG1 Solletico Ma infatti manca La tv dei ragazzi Oggi c'è youtube C'è youtube Oggi Bisognerebbe Mettiselo nel capo Invece tanta gente Non lo apisce Dai E' bellissima Le ragazzi E' be- Ma è grosso This right here Is the PlayStation 5 DualSense Yes Powered up I believe We're going to go Hands on With the PlayStation 5 Hey guys It's Jeff Keighley And this is a special Summer Game Fest stream Really a Special year for all of us That new consoles Are coming out And A lot of people Have wondered What PlayStation 5 Is going to Play like A big part of that Is the controller And the experience Of playing games Especially because This controller Is a little different Than the traditional DualShock And I've got that here My PS4 Pro DualShock This is a Form factor That really has been around Since the original PlayStation In you know Various different forms There weren't analog Sticks back then But The DualSense Introduces a couple New innovations And having played it here For a couple of hours I'll kind of summarize Those for you Before we get into The big things That I've noticed Are the adaptive triggers The L2 and R2 So Outside of the game You just kind of Pull these down Like any controller When you're in a game There's actually The possibility To create Tension points Or haptics Inside of these Adaptive triggers So imagine Pulling this down And feeling the pressure From a bow In a bow and arrow Or Even in an action Ti fa sentire la pressione Proprio Tipo dell'arco Possono fare Active reload points Where designers Can actually Create tension points As you Possono fare Punti di tensione In sviluppatore And give the player Feedback So I think That's A unique sensation That is going to have A pretty big impact I think Longer term On gameplay The other thing Inside of this controller Are the haptics So PlayStation had Add rumble For quite some time But the haptics Add another layer To the experience It's not just Sort of one Rumble point So it's not Just kind of On or off There's the ability To create other Sensations As you'll see In this demo I'm going to show you Of Astro Bot's Playroom You'll see What I see It's like It's like It's like It's like It's like The other thing That I've noticed Is that the speaker In the dual sense It feels like It has much more range Than the PlayStation 4 speaker And it often Directly ties Into what's happening With the haptics At least in Astro's Playroom There's Much more variety In the types of sounds Coming out of the speaker And I'm sure Every game Will use it differently Or may not use it as much But at least in this demo You really do sense That there's a lot Going on with the haptics And there's sound That ties into it And then when you Combine that With the Tempest 3D engine In PlayStation 5 For the speakers The sort of Harmony Between the controller sound And what's happening In the PlayStation PlayStation 5 Is really really unique And interesting So those are the things I noticed in it Some people have asked Also about like What's the weight of it What does it feel like Compared to the The dual shock For PS4 It definitely weighs A little bit more But doesn't feel Substantially Heavier And if anything I think it actually Has a little more heft To it In a good way That it feels more structured More sort of Inside of it So I'm centered But definitely feels Feels good to me So let's talk about What we're going to play today What we're going to check out Is Astro's Playroom And that Ah, vedi, vedi Che era Astro's Packed with the PlayStation 5 Però for the reset Sì, che poi vuole di peso Ma questo qui leggerissimo Eh, infatti Astro's Quel giochino lì di Astro's Lo mettono gratuito Con la PS5 Non è che lo devi comprare Forbidden West Looks like On the system This is a demo That is focused I think more On the controller And the haptics And the adaptive triggers Versus trying to showcase The power of the SSD Or, you know The true graphics Horsepower Of PS5 So that's all stuff We can look forward to We've seen those games You know At the event And they look spectacular So that's another aspect Of PS5 That I'm sure Hopefully we'll get to see More of In the coming weeks But at least right now We're going to look at The controller And how that relates To gameplay With Astro's Playroom So let's call it up here And go hands on Live PS5 PS5 Hear the sound Of my bot Walking around Ah, si sente il sonino Vabbè, però lo prova lui Non è che... Six degrees of motion As always Looks like I'm going to have to flick up here On the pad To release my bot And we are in CPU Plaza The thing about this game As you will see In this demo There are a lot Of references To the history Of PlayStation So Cooling Springs Is the area That is open On Jeff's demo Of this game And we are going To jump in here And just go through This experience With the bot All right So we're on the beach here There are beach balls You can play around with There are some bots Enjoying life Sunning themselves I was bought on vacation Here Should I disrupt them? Seriamente è meglio di SpongeBob Certo, non è grafica Che uno si aspetta La PS5 Però Bello che c'è Pezzi del computer You hear the crisp sounds Of sand coming at you There's a tension In the controller From going over the sand Environment All'anima di Aprescape Infatti hanno fatto Sony Japan Here we are And look The rubber ducks The rubber ducks are back Nooo Le favorelle Of PlayStation 3 The duck demos PlayStation 3 I think that was Rubber ducks Rubber ducks All right So I have This suit And I'm gonna Push up on the controller Zip him up This is the frog suit And This frog suit Shows off The adaptive controllers So I'm gonna Move my controller Left and right And these adaptive triggers Are really really cool And I've never felt Something like this before And it's programmable One thing that I think is really fun About this demo Is it It makes you think of how These technologies Are going to be used In other games So you think of Ratchet and Clank I mean obviously A lot of this gameplay Similar in style To a Ratchet game So you think of All those crazy graphics That we saw On the stream But With this type of control And this kind of fun So now we've made it To the frozen pool area Of the young springs Sì Graffia Non è Non è un po' del cazzo And again You See this ice But you hear A storm Literally Inside Of the dual sense And Sort of A small little rumble From the haptics Little ice shards Here As you Go past every ice shard You hear The little Tink Of the ice shard Sì Però voglio dire Cioè compri la playstation 5 E provi questo giove Ci sta Almeno a me Piacerebbe tantissimo Ci starei tutta la sera Gioco A questo giove Appena Ami un pro La playstation 5 Come così Involve la playstation Ah devi soffiare Sul co Vabbè Attenzione In this one You pull back Just like a bow And arrow Almost And look I unlocked A playstation 3 I have a playstation 5 Well I had a lot Of fun Playing with The dual sense Controller And astro bot And I wanted To get a little More information On all things Playstation So joining me Now is the Worldwide head Of marketing At playstation Eric Lempel Eric How we doing Hi Jeff How are you I'm doing I'm doing pretty good I got to go Hands on with PS5 Which was a nice Surprise this week I was not expecting it But you guys are Full of surprises For PS5 It looks like Yeah and you're One of the first To actually touch The dual sense Outside of the company And the developers I'd love to know What you think This is a Big thing for us Yeah It's one of the Primes of the world That touches A playstation 5 Out of the song But the fact That I got it And got to play It was really special And I have to say After watching the event And seeing the games I was excited But the gameplay Feels like a whole Other dimension To the experience With you know What's happening With the adaptive triggers And the haptics And everything So it was one Of those things That I was playing Astro Bot But imagining All the other games How that's going To impact the experience And one thing I'd heard is that That demo Or version of it You guys actually Shared with developers Initially That's true So what you played Is a part of a title Called Astro's Playroom It was in our show A few weeks ago And it's installed On every Playstation 5 So everyone who buys A Playstation 5 Will get this game And it really shows off A lot of the features Of the platform But really does a great job Of showing all the benefits Of the DualSense controller So what we did is Early on We had another version Of the title That we took around To the developers That were engaged In Playstation 5 development And showed them What was possible With a title And it's been A great example And it's really Opened up people's minds To how they can use This new device And really the new features Of the controller But I would say When people get Their Playstation 5 That should probably One of the first things They do Is just jump in there And experience this Because as you've seen It's pretty special No we've been using The same DualShock A similar kind of Form factor of DualShock For many many generations And obviously adding Analog sticks and rumble And things like that And the touchpad But this feels like You know it's a bit Of a redesign But I really like How it feels in my hands And I imagine For Playstation When you were Conceiving a PS5 And Mark Cerny Was architecting it I imagine the controller And a lot of those innovations Were kind of right there At the beginning Is something that you wanted To put into the system It's true You know as we've said Many times with Playstation 5 It's a brand new generation And we believe in generations So we want to evolve Every part of the experience And the controller Is really the most Intimate part of the experience It's the extension Of the player So you know We thought a lot about this And one of the things We could have done Is just iterate On the DualShock We've done that for many years You know the gamers Absolutely love the DualShock They tell us It's the best controller We've ever made The latest edition But we thought Now let's go a step further Let's see how a new generation Can express a whole new feeling And that's where The DualSense came about So early on It was the plan To evolve the experience And you know There are many parts Of that experience But this is a A really unique part That truly takes A step forward in gaming You mentioned You believe in generations I guess it's A bit of a controversial opinion To some people About this idea that You know Generations are gonna Sort of break with the past Right And I wanted you To maybe talk a bit About that Because it does seem Like that's like A cardinal sort of virtue Of the PlayStation promise Is that there is This sort of You know Break from the past A new generation With a new console games Optimized for that system Versus kind of working Across Multiple devices And multiple generations Can you maybe give us A little bit more perspective On the controller Being a part of that But that view Which is obviously Counter You know We've seen Xbox Saying something different Around that Why is that so important To PlayStation As a principle Of the sort of The architecture Of PlayStation 5 Well specifically for us A big pillar Of our company's innovation It's a pillar Of Sony Corporation It's also a pillar Of the PlayStation company And you know We are always Trying to push the boundaries You know We push the boundaries Of play That's what we say internally We want to excite gamers We want to deliver New experiences So as we It really has to Check the box On a lot of different areas To fulfill those promises And we A lot of developers About this You know We've gone out there We've talked to people About what they want In a next generation console And really to do that You've got to deliver a lot And I think what's really Unique about the DualSense Is that it plays Into another one Of your senses But we're covering A lot of the senses With PlayStation 5 I mean first and foremost I'd say in gaming First and foremost The first sense Is seeing It's all the visuals It's the graphics And naturally With every generation The graphics improve And with PlayStation 5 We're taking a loop Forward there And then there's sounds And we're introducing A new form of 3D audio Which will be Really powerful No matter what you're Playing No matter how you're playing And then the next piece Is touch And you know Touch has been around For a while We've had forced feedback Of course We've had different types Of forced feedback And rumble In the DualShock But this takes that To a whole new level You know Similar to what gamers Have expected From other generational chips Of this brings it To a whole new place I mean It's haptic feedback It's these adaptive Dynamic triggers I mean Something no one's Ever experienced before And it really brings you Closer to the game And you know The biggest joy for us Is putting this In the hands of developers Because developers Want to push The technology As far as it can go To as far as it can go To tell stories And really bring the gamer Into their worlds And we believe You know All of these things Combine As well as all the other Great PS5 features We spoke about Really lead to A next generation experience And in many cases You know We can't take Everybody with us From previous consoles Into that experience You need new hardware You need new devices To experience What these developers Want you to experience And I imagine You know PS4 There will still be games Coming out for it I mean It's not like The pipeline stops there But there's this sort of New set of experiences That will be exclusive To PS5 Right Exactly PlayStation 4 Is a big part Of everything we do And it will continue To be a big part Of everything we do There's a lot more To come on PlayStation 4 I think most recently We're seeing You know Some of the greatest titles This generation Have released In recent weeks But that will continue And again PlayStation 5 Is the next generation product But again We've got a lot To come for people On PlayStation 4 Still a ton of life In that product When I was Playing Astros One of the things That my mind Started racing with Was thinking of How this is going to Apply to a game Like Ratchet Because sort of Similar gameplay style But with the audio The speaker In the DualSense And haptics And the adaptive triggers One feature We haven't talked Much about Is the SSD And that sort of Input output On the device And how that's going To allow A lot of interesting Things And when I saw The event in June That Ratchet trailer Just blew me away With like jumping Between those worlds So quickly And could you maybe Talk a bit about That feature Which I didn't really You know Astro is not a game I think that really Is dry You know Needs the SSD To function the way it is Can you talk a bit About the SSD And how that's going To impact the experience Sure, sure And this ties back Nicely to your question About generations Because When you look at A game like Ratchet And we've talked about A lot of different features Today As you mentioned We haven't mentioned SSD That is another thing That will make The whole gaming Experience different It'll make it better But it also allows The developers To do new things It isn't just about Faster loading time And you take a great Developer like Insomniac And they found a way To say okay Look here's a game That could only be made On PlayStation 5 On this generation Using this technology A lot of what you saw In the show Jumping through Those different worlds Instantly Just can't be done In most cases And it needs New hardware It needs New power So that's Something we're Looking forward to And all these things Come together And combine that With 3D audio With the controller Controller I mean these are Great experiences And these developers Know how to harness Every piece of those And that really speaks To what next gen Is for us So that Ratchet Game like Couldn't be done On PS4 I guess if you did it You'd have to Fundamentally change The kind of The architecture And the gameplay Of it You would have to Change it You would have to Change the way The game works It just It would be A different experience According to Everything that Insomniac Have told us This hardware Allows them To deliver on This vision They could not Make it If they did It would just Be different You would be Playing a different Type of game And the experience Would be different Yeah no I have to Say after playing With the controller DualSense And the experience I definitely got a Sense of where You're taking things Moving forward And let's talk a bit About that Because you guys Had the big event So many great titles I think gamers Are very excited About PS5 I think we saw Even this week There were rumors That pre-orders Were happening And the Twitter Lit up I don't know Where these rumors Start But I have to Ask you Are you about To press the button Now for pre-orders When can we Expect to get Our PS5 No definitely Not now We don't know What happened There We had nothing To do with it I got a message From someone Saying people Are lining up At stores And we had No idea why So I think It's safe to say For all of your Viewers We'll let you Know when Pre-order will Happen We will let you We have to know When will Possibly Pre-ordini At some point Let you know When you can Pre-order PlayStation 5 So please Don't feel like You have to go Run out And line up Anywhere Until you receive Official notice On how that'll Work So Wasn't us Well but look I mean As a marketer I'm sure It's great To see There's That much Anticipation For your Product Oh yeah No look We Absolutely Love All of the We can't We can't Do that So It's really Hard I know A lot Of people Watching This And they're Going to Really wonder Like what Are they Talking about They're going To be angry At me Saying why Did he Get one Why did Jeff get to Do it But I think It's really Hard to Describe I mean You've heard Us talk About this But now You've gone Through the Experience And you can See it's Different One thing I wanted to Ask you about You and I Have known Each other For a long Time And I'm Excited That you're In this Worldwide Role For playstation Now To kind of Unify You know The messaging Around the world And there was A new tagline For playstation That showed up In the event In june Which I think Was the first Time people Had seen it And can you Maybe tell us A bit about This new Kind of tagline Which is Global for Playstation Certainly And thanks For noticing That That was Actually The last Bit of the Show That was The last Thing he saw On the Show Was this New line Which is Play has No limits And you know As you said We've known Each other A lot We've known How the Playstation Organization Was structured And in the Past We were Really separate Groups Around the World That all Worked Together And laddered Up To a Parent Company And in Recent Years We've Started To Globalize And we've Seen Great Benefits From that In many Parts Of the Organization And so Another Part of This Was the Marketing Piece And really If you Look at Great Brands Around the World They all Feel Similar Or at least To a great Degree Similar And a Part of That is The global Brand line And these Lines If they're Good They stand The test Of time And they Stick with The brand For a Long Time So This Was a Hard Job For The Team We went Back And we Looked At this And we Thought What What Type Of Line Would Really Satisfire The World And at The Same Time Live Up To Our Ambition As Company As Brand And that Play Has No Limp Siamo Fattori Per Offer Minore Esperienza Blablabla Siamo Fieri Blablabla Siamo Bravi No Pidi Parla Da Da Manager Non Siamo Un convegno D'azionisti Dio Santo No That You Never Expected And Really It's How We Push Ourselves You Know We Don't Constrain Ourselves We Want To Push The Limits Of Gaming All The Time And You Know Right Up To The End Of Everything We Do We're Constantly Pushing To Deliver Something New Something Best In Class And I'm Excited About This Because I Would Say Jeff You This Past Generation Around The World You Couldn't Because There Were A ton Of Them I Was Going To Say I Know Greatness Awaits But Beyond That It's Like Yeah I Don't Know There Were A lot Of Them And That's Why We Really Wanted To Get This Together And Of Of The Line Will Be Local Fresh Come Una Prezza Primaverina Exactly Was The Line That Was Most Parts Europe Slightly You Saw Some Of That During The Event A Few Weeks Ago And That Will Also Be Global So We'll Be A Very Strong Global Well Again There's A lot Of Love For PlayStation And What You Guys Have Teased Us With PS5 This Year I Think It's Been Such An Interesting Rollout You Never Know When Something Is Going To Pop Up On Twitter Or The Box Art Itself Was Trending When You Put Out The Miles Box So Who Knows What's Next I Can't Let You Go Everyone Online Wants To Know Are We Going To Get Other Colors Of Controllers Or Consoles I Imagine For Launch It's Hard Enough To Get One Out But Is That On The Roadmap We'll Talk About It At Some Point Right Now As You Mention It's A Hard Enough Job To Get The You Know The Unit That We've Showed Out So But We'll Talk About It At Some Point All Right Well We Know There'll Be Two Of Them All Digital One As Well Coming Out And We Are Excited To See What's In Store For PlayStation I'm Sure There More Surprises But Yeah It's Exciting You Have Solo Fat To Vede Meglio In In Vede Ma Console Launch In The Middle I Think My First Hands On Would Be In My Own Place With A PS5 Controller But I'll Take It And They Quickly Took It Away So I Don't Have It Anymore So We'll Check It Out Again Hopefully This Holiday Season Eric Lempel Great To Have You With Us And Thanks For Giving Us A Little Bit Of Hope And Excitement This Year About PS5 I It's All Something We Need And We Look Forward To Playing It Later This Year Thanks Jeff It Was Great Speaking With You As Always But Se Lo taglio Questo Ciuffino Così Lo taglio È Finito Se Lo Taglio Dite Che È Brutto Divento Così Se Lo Taglio Bo Lo Taglio Divento Così È Uguale Cambio Il Cazzo Il No 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 Non Parliamo Del Finale Oddio No 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 Spoiler Veroni Aiuto Madonna Che si fa Vediamo Qualche Video Italiano Ecco Non è Italiano Quindi C'è Tra l'italiano Invece C'è Sottotitoli E Basta Ma Lo So Ragazzi Sono Un po Deluso Da Questo Evento Che Che Schifo Che Vergogna Enrico Il 23 Ci Vediamo La Conferenza No Xbox Non Esiste Si va Di finale Segreto No Non Basta SpongeBob C'è Stato Tipo 5 Secondi Cosa Metti Il Pezzo Dove Gli hai Fatti Vedere I Vicini Ah Del Video Di Prima Aspetta Mi sa Che Bisogna Aspettare Un pochino Non Credo Sia Su Lo Deve Lavorare Ci vorrà Un pochino Ah No No Non è Vero È Già Pronto Si Cioè Tutto è durato 20 minuti Stato Una live Non è Ma Insomma Poteva Essere Un po' Potevano Far vedere Un po' Più Di roba Magari I primi Pianoni Boh Invece Nulla Pro Cioè Vedi È Be È Dio È Bello È Molto Più Bello A Vederlo Così Che Non Nei Render Poi Chiaro Probabilmente Sarà Ancora Più Bello Vederlo Di Persona Ma Questo Nero È No Non È Traslucido Bellissima La Lucina Blu Sotto Il Paddone Aspetta Eh Pulsanti Colorati Mancano Sì Però È Vero Che È Più Bello Così Perché È Più Più Pulito Se Ci Fossero Stati I Pulsanti Colorati Avrebbe un po' Rotto La pulizia Del design Guarda quanto Sembra vecchio A vederlo adesso Il DualShock 4 Ma già appena Avranno uscite le immagini Del DS DualShock 5 Ma perché L'hanno chiamato DualShock 5 DualShock 5 Tanto Chiameremo sempre DualShock È grossino Come controllo Sì Siamo un po' Più grosso Però se Vedi i tasti Sono grossi Uguali Anche la Levetta È uguale Prima Te cambia È un po' Più Massiccio Nel mezzo Però Non dove Si prende Le mani E Non lo so Via Sì È un po' Più grosso Ma non Così Tanto Aspetta Adesso riesco Andando a niente Non c'è Persi Ma è bello Questo Qui È Il PlayStation 5 DualSense Sì È Si Se fosse stato Nero Ci stavano Pulsanti colorati Sì Oh ma magari Faranno altre versioni Sicuramente Basta vedere DualShock 4 Quanti colori Hanno fatto Siamo 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 Hey guys It's Jeff Keeley And This is A special Summer Gamefest Stream Really A special Year For all Of us That New Consoles Are Coming Out And A A Lot Of People Have Wondered What PlayStation 5 Is Going To Play Like A Big Part Of That Is The Controller And Guardate Come Ma C'ha Come Ma Sicciane La Come Si Chiare La Impugnatura Si Sembra Molto Simile A Quello del 3D Dell'Xbox One Però mi piace più questo Cioè a me quello dell'Xbox One Mi piace molto Ma come comodità Per me questo è top Io veramente la comodità Che mi dà questo via Almeno per le mani che ho io È incredibile Infatti spero che questo DualShock 5 Non sia tanto diverso Perché mi dispiacerebbe se fosse magari più scomodo Dipende a come si sia abituato Sì, è vero Però quello dell'Xbox One È bello ma È comodo anche Però questo mi piace più Probabilmente anche abitudine Ma non è vero Il form factor No perché la Se voi andate ora Dopo che siete abituati Alla PlayStation 4 Prendete il padre Della PlayStation 3 Sembra di Di Avemmo un giocattolino È una cosa piccolissima Cioè questo qui è stato Un grande passo avanti Rispetto al DualShock vecchio Che era uguale Col form factor Che dice lui Della prima PlayStation Cioè secondo me il 4 è già Tanto diverso Dalla form factor originale DualShock And I've got that here My PS4 Pro DualShock This is a form factor That really has been around Since the original PlayStation In various different forms Sì, vado a specificare Che su DualShock Era della PS4 Pro Sì, decidi Analog Sticks back then But The DualSense Introduce a couple New innovations And having played it here For a couple of hours I'll kind of summarize Il shocker è piccolissimo Sì Aspetta, aspetta Voglio vedere il dietro Vai indietro Eeeh Non ce la fa Sta stremmando C'è l'adesio brutto C'è l'adesio brutto C'è l'adesio brutto L2 e R2 Spero che l'adesio lì Non ci sia Anche nella versione finale Perché è bruttissimo C'è lo striscino In basso sotto Come qui Ma sta adesivo Boh Ma da bello An action game Pulling this down And feeling active reload points Where designers can actually Ma da bello La mano polona Ora non c'ho Un pad della One Sembra comunque simile E va provato Finché non si prova Non si può sapere Con questo microfono fa schifo So I think That's A unique sensation That is going to have A pretty big impact I think longer term On game play The other thing Inside of this controller Are the haptics So PlayStation had Rumble For quite some time Ti mando quello della One Ma non c'ho la One Aspetta 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 Perché c'ho quello Taroccone C'ho questo Attenzione ragazzi C'ho questo qui Quello Della Switch Che è molto simile Che è molto simile a quello A quello della One Penso sia quasi uguale Sì c'ho Ma non credo sia Ugualissimo del tutto Questo è più comodo Mi è più comodo È più comodo Sto Anche perché Sto andato Questo invece è spigoloso Ma non so Qua Però è comodo Anche questo È anche abitudine Però Non lo so Bisogna provarlo Questo C'ho anche quello Dell'Xbox 360 Però Lo lascio qui No Uno voglio tirar fuori Va tutto in un monte Se no Lasciamo uno lì dentro Aspetta So It's not just Kind of on or off There's the ability To create other Sensations As you'll see In this demo I'm going to show you Of Astro Bot's Playroom You'll see what Ice feels like What sand feels like In different surfaces The other thing That I've noticed Is that the speaker In the dual sense It feels like It has much more range In the PlayStation 4 speaker And it often Directly ties Into what's happening With the haptics At least in Astro's Playroom No a me le cose asimmetrici Non mi piacciono Much more variety In the types of sounds Coming out of the speaker And I'm sure Every game will use it Differently or may not Use it as much But at least in this demo You really do sense That there's a lot Going on with the haptics And there's sound That ties into it And then when you combine That with the Tempest 3D Engine in PlayStation 5 Vabbè Quista è la chiacchiera E noi si è già visto tutto Vabbè Il frame Frezzino Che ho trovato Che si fa Chiudo Sennò Prova a vedere Il trailer Di Breath of the Wild 2 Ma Quello che si vide Tempo fa Ma Non è uscito Un trailer Nuovo di Breath of the Wild 2 Poi non si sa neanche Se si chiama Breath of the Wild 2 Dopo questo C'è una zanzara Che mi rompe i coglioni Vai via Donna ragazzi Perché devo essere Devo diventare Violento Devo premuovere La violenza Oh Senti No Un po' di fettino Ah La luce della morte Guarda Vieni Sparito Ah visto Visto che è servito Avrei la curiosità Di tenere tra le mani Il primo pad Banana Della PS3 Ma guarda Io No Metti il trailer Di Crash on the Run Basta Crash on the Run Quando esce Si vedrà Ora no Non ha senso Si va a friggere bestiola Sicuramente abitudine Bisogna comprare Metti Uncharted Quale Uncharted? Stasera si fa Uncharted Lo so Lo so La live oggi L'ho già fatta Quindi Deve dire Ragazzi Ci sta Che le realtà perduta Non interessi Quindi Se non interessa Si stoppa E lunedì Si inizia The Last of Us 2 A New Game Plus Che lo devo giocare Se ci siete bene Se non ci siete Fa uguale Il trailer di Far Cry Vediamoci il trailer Ma si è già visto Vediamoci il trailer di Far Cry Dai Dov'è? Sparito C'è più Ah Eccolo Ho finito ieri Uncharted 1 Dopo aver fatto Della Sto Paz E beh E beh E letteralmente Un giochino Che è Passato Questo è un trailer Bellissimo Sembra scritto Dall'autori Breaking Bad It's beautiful Amigo Perfect But useless I have something for you Diego Give me your ass Give me your ass Oh eppure dice ass Non dice hands I have something for you Diego Give me your ass Give me your ass dice I have something for you Diego Give me your ass Non dice hands Dice hands But useless I have something for you Diego Give me your ass Dice ass Non dice hands Vediamo se nei commenti lo dicono Ah no ma questo è italiano Papa No The grenade is simple It has four basic parts The shell Which contains the explosive The fuse The handle And of course The pin The pin What are you doing? Seeing parts Breathe 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 The pin Simply holds the handle in place Guardati pure la cinematica Quale? It is only when you let go That this grenade goes boom Boom Follow me Ma non sei un attore Incredibile Cioè a volte si vede che è finto Che è in grafica Però Tipo qua Cioè a volte Però alinei di se reprimo Ma che sembra Davero um film E as nostri people They do not know how to be happy They are torn apart By opinions Noise Indecision Strangled By their own Freedoms And even if you have love in your heart Even if you want what's best for them If you only want to save them from themselves They will hate you dear No Everything you say Do Believe Will be wrong Come on Come on Come on Come on Come on Come on They will answer you as screams call you evil a monster and give you this so you tell me are you evil and are you a monster because our country is like this grenade except it has two basic parts our people and you and you must clutch them nice and tight or we all go boom do you understand now do it 18 febbraio ps5 ps4 madonna ps5 ps4 ragazzi io chiuderei la prima volta che ho visto il trailer e pensavo fosse un film si anch'io c'è il coso di assassin's kid valala però dove non lo trovo la storia templare non è che visto il coso di assassin's kid valala e questo quattro giorni vabbè si non è non è il game vedo il tuo destino scorre come un fiume che segna il suo percorso ma ci ha rotto l'olione madonna si è sempre la solita roba si il game plan di valala non mi è piaciuto per niente avevo visto un pezzettino sembra origins la solita roba sempre la solita roba la solita grafica che cosa vai cercando vedo le tue conquiste vedo i tuoi nemici le tue lotte i tuoi dubbi non interessa minimamente la gloria ti attende ma ti costerà tutto basta mi è già venuta a noi non ce la posso fare ragazzi basta vi ringrazio per esserci stati le basse non nomine a C e verrebbero sì infatti è vero cambiate il nome basta si è sechini perché avete rotto coglione veramente non si reagga in più basta ragazzuoli è stata una live carina e nonostante tutto alla fine il dual sense l'abbiamo visto riprendi uncharted quale quello di ieri sera no ora basta devo andare a finire di montare gli episodi della ps vita mi sa lo volevo pubblicare oggi il 5 però poi ho dovuto fare delle modifiche mi sa che lo pubblico domani però di sabato non se lo guarda nessuno pubblico domani magari di mattina va bene il punto di questo evento non mi è che eh sì era far vedere il dual sense ma sì non aveva era molto potevano farlo tranquillamente con un video su youtube lui faceva guarda senza tutta l'intervistina inutile qualche live su giochi ps1 è vero ci avrebbe anche vito qualche live con vito la bistola sta piacendo sì 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 mi sta piacendo più del previsto e non pensavo certo è un episodio minore perché il gameplay è molto più più poverino e le potenzialità della psd erano quelle però ci starebbe una remaster non succederà mai penso ormai a meno che non fanno un remake ma non credo non remaster se l'avessero fatto insieme all'uncharted collection allora sì ma fatto così non ha senso però la storia è carina è molto meglio del primo e del 3 cioè come storia mi sembra a sto punto sì è meglio di quella del primo e della del 3 che ovviamente non esiste il 3 quindi rifarai live di rachet ps4 non lo so però la settimana prossima mi piacerebbe iniziare rachet ps3 iniziare coso armi di istruzione poi magari si fa anche gli altri li voglio rigiocare tutti quelli ps3 armi di istruzione spasso del tempo nexus quindi se vi interessa si fa la settimana prossima rachet nexus sì però non voglio iniziare da nexus bisogna iniziare da spasso da armi di istruzione che è tantissimo che non lo gioco jack2 no ragazzi jack2 forse più amanti si era alloggiato due mesi fa jack2 da me perché non sa cosa fa e niente basta e settimana prossima si fa anche the last of us 2 a new game plus perché lo devo platinare quindi lo platiniamo in live un remake sulla 5 lo vedrei bene eh ma stai se devi fare un gioco nuovo di uncharted sulla 5 lo fai nuovo non fai il remake di Goldenavis Goldenavis ha senso secondo me come rimare master tolta tutta la roba touch avrebbe senso però ormai secondo me siamo fuori tempo massimo se fosse uscita su ps3 o su ps4 ma se la fai su ps5 non ha senso comunque ragazzi domani esce l'episodio 5 di Goldenavis e poi gli altri credo arriveremo al 9 8 9 non lo so voto la storia la devo ancora finire di registrare però è bello questa storia non lo so non ve lo so dire ragazzi ci voglio fare un videino davvero se ci riesco buonanotte ragazzi si buonanotte buonasera buon buon venerdì sera non credo stasera si farà live perché ho già fatto questa oggi vediamo vediamo buona serata e grazie ancora ciao ciao ciao